lista concorrenti conoscenti alla lontana di TikTok buongiorno, ho appena chiamato Alfonsino mi ha dato la lista di chi ha confermato e di chi ha quasi preso per la nuova edizione 2023-2024 del grande fratello mi ha fatto un regalone prima in lista la marina Fior d'Aliso mia concittadina Piacenza, grande Alfonso ti voglio bene dopodiché Ciro Petrone Beatrice Luzzi Massimiliano Varrese Samma Samira Lui, scusatemi Giampiero Mughini ne vedremo delle belle grande Giampi che Dio ti benedica mettele in rega tutti Alex Schwazzer non so se ho pronunciato bene il suo nome Grecia Colmenares alla grande, ancora un bel fighino anche lei, più che accettabile e poi in forse in forse e spero tanto veramente di sì Alvaro Vitali grande Pierino vogliamo il Vitali assolutamente grande master del cinema italiano Claudia Cole Claudia Cole sì sicuramente Claudia Cole senza ombra di dubbio lo vogliamo vedere è ancora sicuramente una gran bella donna grande Claudia Cole poi comunque lei ha avuto questo ridimensionamento anche lei ha avuto queste chiamate del Signore quindi sì lo vogliamo vedere e poi la Rihanna David va bene ci sta ma io punto molto sulla Fior d'Aliso grande Fior d'Aliso anche perché penso che sia una delle prime apparizioni dopo luglio dell'anno scorso che ha avuto una peritonite d'urgenza è stata operata dopodiché io comunque non ho più avuto notizie di lei non l'ho più vista neanche comunque in televisione quindi penso che sia la sua prima apparizione quindi grande grandissima Fior d'Aliso ti vogliamo splendida Alfonsino manco solo io mi raccomando ti voglio bene fammi entrare chiamami ciao a tutti